Io credo che la squadra sia stata attenta alle insidie che nasconde ogni partita, ce la siamo un po' complicata nel terzo set, non ci ha sorpreso l'inizio dove siamo stati per la prima parte del primo set indietro di un paio di punti, due o tre punti. Sappiamo come sono le partite, sappiamo come sono gli avversari e quindi sappiamo che per vincere sempre bisogna fare una buona prestazione. Credo che l'abbiamo fatta, ci siamo portati a casa il risultato che era quello che ci interessava. Adesso da domani pensiamo alla partita di campionato di domenica con Taranto. Questo era importante per noi, iniziare Champions League con l'esaltato così, 3-0 con tanti punti in avanti. Abbiamo fatto questo e adesso possiamo fare focus per la prossima partita di Superliga.